Iniziamo con i primi bowl d'argento Oro, gemme, gang e tre moschettieri di uomo Ok, oro, estrattore e goblin francieri Dopo faremo delle battaglie su strategica doppio legirlo Iniziamo con i bowl della corona, gemme, cannone, gigante, epica, come? C'è trollato, bowl ed oro, scarica, gigante, epica, una bella furia, va bene Iniziamo con la prima battaglia, strategica doppio lisir, carta in tavola sarebbe sì Allora, scegliamo arcieri Da gang Stregore e zappo Aiuto È meglio la capanna Sì, è che lui c'ha anche il golem, così facciamo il devasto Uh, anche la congelamento Allora Allora Io Questo subito ho il razzo Fede Questo attacca subito Oh Sto attaccano Ok Fulminiamo Zap, zap Uh, tutto Cato Questo Coronavirus Come Tre Voi Voi La Voi La 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 L La 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 Bien va bene va bene va bene va bene un'altra capanna va bene va bene va bene va bene non tocca la torre c'hanno preso la torre questa è la cazzo di cane però pace un gigante altra capanna va bene troppo di merda di essere la madonna va bene va bene oh cazzo scusate se c'è delle voci è perchè c'è mia nipote che sta guardando i cartoni non lo so che sta guardando congeliamo tutto qui facciamo fuori la principessa golemito va bene va bene dai fuori sono fuori invece ci faccio la bomba va bene va bene va bene ok 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 va bene ora continuamente qua ora continuamente qua un po' di rarda metti la raggio metti la raggio metti la raggio vamboccio vai un mongoloide e mi fa pronti sta pronti corri ecco porco zio tutti i mongoloidi mongoloide mongoloide strega cimitero e c'ho il 2 arcieri ah c'ha il mio pecca ok c'è un mongolo no lo scoletto gigante e il pecca ok è 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 una parola enfocata ecco qua ci hanno fatto quasi la terra ecco golem 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 coraggio ok metto uno per far fuori e tu mi rialpecca allora fuori questo di merda cosa va bene questo 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 che cazzo c'è una fireball vai vinciamo a un po' cazzo va bene tre corone cazzo e un po' cazzo no oh è un po' più tranquillo no? però croente ho posto, mi riesto l'angolo guarda oh mi farà più testa Noi abbiamo perso Che cazzo Va bene va bene va bene va bene Noi abbiamo perso Vincere Vincere Vaffanculo Ma intanto di nuovo facciamoli vincere Stia rabbi di merda Senza offeso per chi era boh Oh Vabbè vabbè Tutto a cazzo Forse tia Ragazzi Forse farò anche degli episodi di GK5 Forse Forse dobbiamo registro GK5 Ah non lo posso Per tutto nemmeno che lo devo guardare Non lo devo guardare Non lo devo guardare Non lo devo guardare Non lo vincite Tutto a cazzo Sette di vita Un mongoloide questo Apriamo il baule Oh Eh Goblin Barbarasher Guarda Ok Per oggi tutto Ci ricordiamo nel prossimo video Ciao a tutti